Ma innanzitutto consentitemi prima di tutto di esprimere le felicitazioni della città di Napoli per il ritorno in patria in Italia di Gabriele. Quindi credo che questa sia una notizia importante, però non dimentichiamoci che nello stesso tempo in Turchia continuano a essere detenuti per motivi politici tantissimi giornalisti, oltre che magistrati, professori universitari. Quindi si pone un tema a Turchia, chiaramente, che è un paese della Nato. Non ce lo dimentichiamo mai. Dall'altro mi sembra che ancora una volta vengono fuori non solo le contraddizioni, ma la sempre più evidente posizione del Movimento 5 Stelle sul tema della solidarietà e dell'accoglienza. Le dichiarazioni di Di Maio appaiono veramente superficiali e appaiono però anche caratterizzarsi verso un movimento politico che non ha il coraggio di esprimere una parola chiara sul tema dell'Europa e della solidarietà. Vedo anche le dichiarazioni di queste ore sul ballottaggio in Francia. Sono sempre molto cauti nei confronti delle posizioni populistico-nazionalistiche, razziste. Bisogna essere chiari. Io credo che un movimento politico che aspira a guidare il Paese come legittimamente vuole fare il Movimento 5 Stelle deve finalmente dire delle parole chiare su che Europa vuole, qual è la posizione sul Mediterraneo, qual è la posizione sui movimenti che fanno un lavoro enorme in difesa dei beni comuni. sono queste dichiarazioni, qual è un quiz superficiale su ONG che operano da tanto tempo. Penso anche a movimenti straordinari da Amnesty a Greenpeace per finire ad altri. O hai degli elementi precisi, sei il vicepresidente della Camera e fai delle dichiarazioni, oppure è evidente che ci troviamo su posizioni politiche molto chiare che sono ormai evidenti da tempo. E poi questo è un tema che mi sembra di sottolineare in questi momenti.